Oh merda corri da questa parte saltella vai 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 attenzione sali lì Ciao a tutti ragazzi qui è Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 online Siamo ritornati con un nuovo delteran vecchio stile infatti ci sono già bus e cose varie insomma lì sopra Allora stiamo un po' calmi io ho la tanica dove sono gli sniper? Gli sniper sono ok in quella piattaforma lì sotto forse già potrebbero colpirci Non lo so comunque andiamo avanti Ok ci sono anche delle barriere corri da questa parte vai attenzione il salto Ok perfetto mamma mia via 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 di qui oh merda ragazzi mi hanno colpito cazzo Lì la barriera finiva cazzo non me ne era accorto cosa mi sparano lo stesso come è possibile? Non lo so comunque devo muovermi corri da questa parte via sali qui sopra Mamma mia ragazzi impressionante mi hanno praticamente già colpito non so non so come Allora uh è caduto un bus qualcuno forse è stato schiacciato Non lo so ragazzi forse si un camion esploso va benissimo Dobbiamo superare questo fottutissimo cespuio quel bastardo mi aveva spinto Allora voglio un attimo vedere se ho degli snack vai ce le ho ragazzi perfetto Mangiamo un po' altrimenti con qualche altro colpo di cecchino praticamente muoio quindi non va bene Perfetto abbiamo la vita al massimo giubbottine antiproiettile purtroppo non ne ho Va bene è il momento di andare ok quello che era andato davanti è morto 3 2 1 e andiamo ragazzi vai corri 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 da questa parte mamma mia ce l'abbiamo fatta non mi hanno colpito Andiamo andiamo senza fermarci sali qui sopra perfetto dentro al container usciamo via di qui attenzione mamma mia mi hanno colpito Mi hanno colpito in maniera anche piuttosto brutale Oh merda qui forse qui forse potrebbero colpirmi ragazzi io avanzo vai corri 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 vai perfetto sali qui sopra Mamma mia andiamo altre barriere un pizzico di vita ragazzi un pizzico di vita Vai salta ok non mi hanno colpito oh merda dove devo andare da questa parte stiamo calmi stiamo calmi sali ancora qui sopra ragazzi Purtroppo potrebbero colpirmi i piedi via 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 entra qui dentro Ok perfetto ci siamo vai ancora no merda dovevo entrare dentro il container e avrei ricaricato la vita No ma è impressionante comunque è complicatissimo perché possono colpirti i piedi cioè quelle fottute barriere sono alzate Allora qui c'è l'ultimo sopravvissuto praticamente ragazzi dopo il container sto vedendo che c'erano le armi quindi per pochissimo Intanto a quello lì forse gli stanno colpendo i piedi non lo so e infatti è morto sì è morto ragazzi Allora ho fatto bene a correre se mi fossi fermato prima sarei morto cioè me l'aspettavo comunque Secondo round adesso abbiamo gli sniper Vediamo un po' di fotterli sicuramente riusciremo ad ucciderli o almeno spero Allora vediamo un po' prendiamo qui i vari cecchini perfetto e facciamo cadere subito ragazzi qui qualcosa qualche furgone Ok via giù il bus giù anche i monster truck vediamo un po' che combinano appena salgono lì Farò cadere il bus no merda i miei compagni l'hanno colpito uh qualcuno forse però l'hanno schiacciato Non lo so ragazzi ma credo di sì Allora stiamo un attimo calmi e boom oh merda quello si è salvato vai spara ancora No quello si è salvato ragazzi attenzione qui vai spariamogli ok gli ho preso forse il polpaccio non lo so Oh merda vai monster truck vai giù ok l'hanno colpito i miei compagni Vediamo un po' ragazzi allora uno è morto sicuro Gli altri però no ok il monster truck praticamente si è bloccato cosa veramente molto ma molto buona Niente sono fermi dentro il container non si muovono a quanto pare Vabbè forse il monster truck ha praticamente bloccato tutto Boh mi sa di sì quindi non lo so ragazzi forse rimarranno fottuti lì dentro Non ne ho idea i miei compagni stanno sparando al monster truck però non succede nulla Cioè non esplode e neanche cade giù quindi boh non lo so veramente Attenzione lì c'è uno vai spariamogli occhialo colpito ragazzi no non è morto Ovviamente quando li prendo io non muoiono mai hanno un sacco di vita Attenzione lì c'è un altro vai spariamogli Merda si è salvato niente comunque ci stanno provando L'hanno preso in testa mamma mia è morto Ragazzi sono rimasti bloccati lì quelli assurdo Cioè il monster truck è proprio rimasto incastrato e neanche esplode Neanche esplode allora lì c'è quello spariamo gli occhialo colpito vai ancora Perfetto ci sono assistita spariamo a quello boom colpito ancora Andiamo oh merda forse vuole salire sopra il container mi sa di sì Niente è morto anche lui ci sono assistita e forse sì sono morti tutti ragazzi no incredibile Niente round vincitore sono rimasti tutti fottuti dentro il container Grandissimo lavoro del monster truck assolutamente Terzo round e si riparte ragazzi di nuovo come runners E spero di non rimanere bloccato adesso io col monster truck non lo so Comunque ho visto che sopra la mia testa c'è qualcosa dovrebbero esserci insomma dei bus Allora stiamo un attimo calmi qui c'è un furgone vediamo se lo fanno andare giù No niente ragazzi ok vai l'hanno fatto andare giù adesso perfetto Arriva qui sali qui sopra oh merda stiamo un attimo calmi Adesso c'è il mio compagno oh sali sali mi stavano colpendo forse i piedi non lo so Come cazzo è morto questo ragazzi come è morto quello no assurdo Allora qui non c'è il monster truck no vabbè Uh è arrivato adesso no non dirmi si è bloccato No ragazzi si è bloccato il monster truck incredibile incredibile Ok il mio compagno è riuscito ad andare o si è buttato giù Sì ragazzi quello praticamente ci è riuscito come cazzo faccio io per adesso ad andare lì non lo so Attenzione esploso come cazzo è possibile Ok ragazzi è esploso il monster truck cosa veramente positiva Vediamo un po' se adesso si toglierà dalle palle oppure rimarrà lì ma credo proprio di sì ragazzi rimarrà lì Sì è fermo non si muovo che Quello ha preso fuoco Quello ha preso fuoco dai appena si spegne il fuoco vado anch'io Cazzo prendete un estintore Sì questo vuole che vado io vai tu ma che occhi ha Cioè praticamente ha tutti gli occhi bianchi quello lì veramente incredibile Allora è il momento di andare So già che morirò perché mi punteranno tutti però proviamoci ragazzi Vai 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 attenzione 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 vai qui attenzione scendi con calma Ok perfetto vai ce l'abbiamo Corri 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 Che cazzo è Ragazzi mi hanno forse mi hanno preso in testa per forza Mi hanno preso per forza in testa perché avevo tutta la vita Niente vabbè lo sapevo che dovevo morire No è impossibile Mi sa che devo mettermi il casco antiproiettile perché è impossibile Dai cazzo avevo tutta la vita mi hanno colpito in testa Mi serve il fottutissimo casco Comunque sono sopravvissuto in due Quindi spero ragazzi che riescano almeno loro ad arrivare alle armi Io ce l'ho arrivato veramente vicinissimo Vediamo l'altro compagno dov'è Ok vai ce l'hanno fatta per forza Prendete il fottutissimo Hydra e devastateli Un compagno ha preso gli RPG Un altro ha preso l'Hydra Sì ormai il round è per forza nostro Infatti li stanno completamente devastando Gli sniper Dovrebbero essere morti tutti Vediamo un po' Sì ragazzi il round è vincitore Ottimo ottimo Quarto round Adesso dobbiamo assolutamente ucciderli Siamo pronti qui col bus Vediamo un po' se avanzano Vai vai facciamo cadere il bus Attenzione Oh merda forse per poco non li ho presi Non lo so comunque il bus si è fermato lì Non cade giù Mamma mia No ma comunque è pieno di trappole ragazzi Questo death run No chi è andato giù Attenzione c'è uno lì Spariamo gli e boom No merda si è salvato Vai qui con calma Attenzione colpito ragazzi Gli ho preso forse il culo Non lo so Mamma mia è sopravvissuto No è morto Alla fine è morto Abbiamo fatto l'uccisione assistita Il monster truck si è fermato lì Perfetto Veramente ottima come cosa Quelli stanno avanzando Oh merda vai Attenzione Boom Io gli colpisco sempre il culo Però purtroppo non muoiono Cioè questa è una cosa incredibile Ok Sono arrivati lì Vediamo un po' cosa combineranno Uh lì c'è uno Vai spariamogli Oh merda No non ci credo Si è salvato lì c'è un altro Vai attenzione Ma che cazzo è Ma che cazzo è ragazzi L'avevo preso Niente non si sono buttati giù Allora prendiamogli i fottuti piedi Non lo so Vediamo se possiamo Facciamo saltare in aria questo coso qui Esplodi Esplodi Ok perfetto ragazzi Uccisione assistita Io faccio sempre le uccisione assistite Però un'uccisione Completa non la faccio mai Oh merda Quello si è salvato Vediamo un po' Qui c'è un bus Lo facciamo andare giù Vai facciamolo cadere adesso ragazzi Attenzione L'abbiamo schiacciato forse Non lo so Forse si Forse no E' morto In qualche modo Si ragazzi Abbiamo vinto il round Quello è morto Non so come Forse con il bus Ce l'abbiamo fatta Comunque si è incredibile Sempre le uccisione assistite Quinto round Vincendo questo Forse riusciremo a vincere La partita Vai si riparte Allora stiamo attenti Perché qui sopra C'erano delle cose Ragazzi voglio un attimo Provare a mettermi Insomma un Fottutissimo Caschetta antiproiettile Perfetto Eccolo qui Antiproiettile nero Ce l'abbiamo Adesso colpitami in testa Corri 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 Oh merda ragazzi Oh merda Vai subito dentro Al fottutissimo container Perfetto Ce l'abbiamo Sono vivo Ricarichiamoci un po' La vita C'è ancora questo qui Con gli occhi Praticamente bianchi Mamma mia Poi ha un tatuaggio Di uno scorpione Nella guancia Allora ok Ho mangiato tutto Siamo Siamo al completo Mi mancano purtroppo I giubbottini Antiproiettili Comunque un compagno Dovrebbe essere morto Il monster truck Ancora lì Non esplode Come cazzo facciamo Non lo so Non lo so Potrei provare Ad andare indietro E risalire Insomma il container Però dovrei andare Nascosta al radar Ok vai Sono riusciti a farlo esplodere Perfetto Io aspetto per i miei compagni Vai Diciamogli di andare avanti Col dito Vediamo Vediamo un po' ragazzi Se andranno avanti Oppure no Io credo di no comunque Vai Quello si sta muovendo Perfetto Vediamo un po' No non dire È volato giù No ragazzi Si è suicidato No è volato giù Merda Forse ha preso fuoco Non lo so Io vado nascosto al radar E vediamo un po' Se riesco a combinare Allora vai Nascosto al radar Perfetto ragazzi Ce l'abbiamo Vediamo un po' Se posso andare Da questa parte Oh merda Però non c'è copertura Qui Non c'è assolutamente Copertura Dai cazzo Dovrei salire qui sopra Vediamo un po' Se ci riesco ragazzi Giriamoci Sali qui sopra No merda Non ce l'ha fatta salire Vai 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 Girati Sali Sali qui sopra Perfetto Vai corri Non fermiamoci Oh merda Corri da questa parte Saltella Vai 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 Attenzione Sali lì Sali lì Non andare giù Ok perfetto ragazzi Sono sopravvissuto Incredibile Allora adesso devo andare Oh merda No 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 Cazzo non me l'aspettavo Non mi ricordavo Di quella fottutissima Tanica Niente sono morto Avevo fatto La cosa epica Di salire sul container Per superare il monster track Ma siamo morti lo stesso Cazzo Gli manca pochissimo Per arrivare alle armi Però secondo me ragazzi Morirà Io non lo so Non so come andrà Però guardate qui Gli hanno già tolto Tantissima vita E infatti l'hanno fottuto Me l'aspettavo Me l'aspettavo tantissimo E niente abbiamo perso il round Allora vincendo il prossimo Vinceremo molto probabilmente La partita Sesto round Ho ancora il caschetto Antiproiettile Facciamo subito cadere Qui il furgone Vediamo un po' Merda Quello si è salvato Allora Ok il bus L'hanno buttato giù Adesso c'è l'altro bus Vediamo se avanzano Questa volta Dobbiamo farlo cadere Proprio in maniera precisa Vai adesso Vediamo un po' Vediamo un po' Ok ragazzi Mamma mia L'ho devastato E' sopravvissuto Dove cazzo è Spariamo così Dei colpi a caso No ragazzi Quello è morto Ok in qualche modo Dovrebbe essere morto Mamma mia Incredibile strategia Ma come passano Qui via Monster truck Vai giù Monster truck Cadi mi raccomando Ok vai Si è bloccato Perfetto Ottimo Ottimo Allora Il problema è che è quelli No ok Sono entrati dentro il container No uno è salito Oh merda Stiamo calmi E boom Vai colpito ragazzi E' morto Ci sono assistita Vai Uno l'ho ucciso Perfetto L'ho cecchinato Un miracolo ragazzi L'ho ucciso uno Allora quello sta salendo da quella parte Proprio scelta sbagliata Lo devasteranno Ok io non sono riuscito a prenderlo Però ovviamente gli altri si Mamma mia Ragazzi L'ho ucciso uno Incredibile C'è l'ultimo sopravvissuto C'è ancora lì la tanica Praticamente Tutta intera Oh merda Vai colpito ragazzi E boom Oh merda Niente Ucciso l'assistita Ed è finito tutto ragazzi Dovremmo aver vinto Infatti abbiamo vinto la partita Niente è stato un letteran Veramente molto bello E diciamo un po' classico Non riuscivo ad uccidere nessuno Poi una volta Cazzo ce l'ho fatta E per pochissimo Nel primo round Non sono riuscito ad arrivare Anche alle armi Veramente per poco ragazzi Comunque si Ce l'abbiamo fatta E' stato veramente bello Particolare insomma Io spero che il video Vi sia piaciuto Quei da extra Lasciate un mi piace E ci vediamo al prossimo video